Buongiorno a tutti da Sportilia, mi trovo qui per questo ennesimo, lo dico con piacere per questo ennesimo raduno estivo, tecnico di aggiornamento. Chiaramente la mia presenza è in veste da Varpro, anche qui noi possiamo fare, non facciamo ovviamente attività fisica, ma facciamo molta aula e soprattutto aggiornamento su quello che è il nostro compito, il nostro mandato. Da domani lavoreremo anche con i ragazzi più giovani, i colleghi più giovani al simulatore e per cui studieremo prima di tutto il nuovo rapporto che è stato fatto proprio sull'impiego del Var nelle nostre competizioni e per cui avremo modo di aggiornarci, confrontarci e ovviamente si spera migliorarci su quello che è proprio l'approccio del Var che poi andremo ad iniziare in maniera vera e propria dal campionato che inizierà il prossimo 22 di agosto. È sempre un'esperienza che arricchisce molto perché è un ruolo, l'abbiamo visto negli ultimi campionati, è un ruolo molto molto delicato. Qui c'è la possibilità di confrontarsi con i colleghi, sia gli assistenti ma soprattutto gli arbitri, confrontarsi con la nuova commissione per cui tracciare delle linee, crearsi un equilibrio che possa servire per tutti, soprattutto a livello interpretativo delle regole ma soprattutto a livello interpretativo del protocollo Var che stiamo studiando e che cercheremo di applicare nel migliore dei modi dall'inizio del prossimo campionato.